Ci siamo. Ok, allora. Eccoci qui. Arrivo. Ok, ci siamo. Sei pronta, Cri? Certo, certo. Prego. Allora, quali sono i due aspetti che una persona desidera migliorare? Aspetto fisico ed aspetto economico. Io ho iniziato proprio da questo, da un bisogno di cambiare il mio aspetto fisico. Io sono mamma di due figli, ho 31 anni, mi chiamo Cristina Maceri e ho già una mia attività commerciale, quindi io lo stipendio diciamo che lo portavo già a casa. Inizio tutto questo per cambiare il mio aspetto fisico, ma dico, provo anche a lavorare online, mi butto in questa nuova esperienza perché il guadagno extra non fa mai male a nessuno. Come vedete nelle foto, io ho sempre portato i miei figli nella mia attività commerciale, quindi li ho sempre sacrificati e questo è il lavoro, diciamo, tradizionale. Mentre con il lavoro online io e i miei figli li tengo accanto, per esempio oggi avevo mio figlio che aveva la febbre, io sono stata comodamente a casa, sciottavo col telefono con i clienti, facevo il mio lavoro semplicemente dal telefono. E questo, come ho detto, è iniziato come un gioco, quindi all'inizio avevo dei guadagni extra, per me anche la 50 euro che mi portavo a casa per mangiare la pizza con i miei parenti, comprare una maglietta di più ai miei figli, per me era già tanto. Perché, come vi dico, io nella mia attività commerciale sono abituata a faticare parecchio, mentre per me il lavoro online non dico che sia facile, ma comunque è più frutto di passione e di tanto impegno, sì, però per me non lo potete chiamare fatica, perché sono abituata appunto a faticare tanto. E alla fine poi, in realtà, quello che ti rimane è sempre uno stipendio, non ti rimane nient'altro dopo che hai lasciato tutte le spese e le tasse allo Stato. Quindi il mio sogno un domani sarà rinunciare all'attività commerciale e dedicarmi full time all'attività online, perché mi sto dando tanti frutti. Come vedete, negli ultimi tre mesi sono riuscita a portare a casa uno stipendio di 1000 euro, che per me non è da buttare, specialmente oggi una donna guadagnare 1000 euro è già uno stipendio carino, diciamo, con la differenza che dovrebbe lavorare 10 ore al giorno, lontano dai bambini e quant'altro. Quindi questa sera noi che cosa andiamo a presentarvi? Vi presentiamo un'attività online. Questa attività ha zero rischi e ha una minima spesa iniziale. Si può iniziare davvero senza esperienze, come ho fatto io. Non pubblicavo, non sapevo cosa fossero i reel, non sapevo niente dell'attività online. Online questa attività ha un doppio vantaggio. Possiamo migliorare il corpo e ottenere da subito un guadagno extra, come abbiamo detto prima. Quali possono essere gli obiettivi da raggiungere? Un guadagno extra, acquistare una casa, viaggiare, un'auto nuova o semplicemente non avere più il conto in rosso, perché è una cosa molto comune oggi. Che ruolo noi assumiamo in questo business? Diventerai rappresentante della bellezza e del benessere fisico? Per esempio, potresti già essere una cliente e quindi aver ottenuto già dei risultati, oppure puoi scegliere di iniziare oggi uno dei percorsi per migliorare il tuo benessere fisico e i tuoi eventuali punti critici che hai nel corpo. Poi abbiamo detto, diventerai rappresentante del benessere economico e puoi gestire il tempo come meglio credi? Quindi ti basta scegliere di iniziare e collaborare con noi, avrai a disposizione la formazione e tutto il supporto necessario per diventare una vera professionista nell'industria del network. Io ho finito, grazie a tutti e passo la parola a Daniela Marinacci. Grazie Cri. Daniela? Ho attivato l'audio, buonasera, buonasera a tutte. Allora, io mi chiamo Daniela Marinacci, come ha detto Cristina, e devo tornare un attimo indietro perché faccio questa attività da circa quattro anni. Nel 2019 ricevo un invito per partecipare ad un evento dal vivo, appunto dell'apertura del mercato italiano di un'azienda americana. Siccome io stavo vivendo un momento un po' critico, personale, anche da un punto di vista economico, ho detto vabbè vado così, mi distacco da questa situazione. E mai avrei potuto immaginare che quell'evento lì avrebbe proprio dato un senso nuovo alla mia vita. Perché vado a quest'evento, inizialmente mi sento un po' così fuori luogo, però subito, da subito, mi accorgo che le persone che erano a quell'evento avevano una luce, una gioia, una passione, ma poi anche una condivisione meravigliosa. Conosco delle persone come i fondatori dell'azienda, l'azienda, altre persone, e lì mi sono innamorata. Io sono un'impiegata amministrativa e lavoro chiaramente tante ore e sono fuori di casa. Come vi ho detto, avevo questi problemi economici e grazie a questa attività, tantissimi piccoli debiti, veramente sono riuscita a toglierli. Perché non è facile chiaramente vivere da sola, avere la passione degli animali, perché tutti quelli che trovo li raccolgo e poi chiaramente gli devo dare un futuro. Come potete vedere, anche se in piccolo, questo è il guadagno di due settimane e devo dire che può essere veramente utile. Perché? Perché io mi soffermo un attimo su questa cosa? Perché oggi, come oggi, come appunto diceva anche Cristina, un guadagno extra è davvero essenziale. E poi questa attività potrebbe davvero darti una svolta pazzesca. Vi vorrei dire tante cose di me, ma magari avremo l'opportunità in un'altra volta. Voglio entrare invece nel vivo, appunto, Claudia, di parlarvi appunto di questo business. I vantaggi di questo business sono, chiaramente come appunto aveva specificato e sottolineato Cristina, potrai avere un miglioramento del tuo benessere fisico, perché magari scegli un pacchetto che ti può essere utile per la perdita di peso, per mantenere il tuo peso, perché magari ne hai già perso, e quindi un miglioramento anche da un punto di vista economico. Perché questo business è un business che noi diciamo chiave in mano, in quanto tu hai da subito una formazione, poi una formazione completa che ti viene offerta sia dall'azienda che dal team, per cui potrai lavorare in maniera autonoma, ma sempre in armonia con altre persone. E la cosa bella che ho dimenticato di dire è che questa attività ti mette veramente in comunione con tantissime persone, perché essendo un business online tu puoi raggiungere tantissime persone in tutto il mondo, con le quali puoi avere, puoi interagire, possono diventare delle clienti, ma possono anche diventare delle persone che lavorano con te nel tuo team. È una gestione facile, perché l'azienda ti dà a disposizione tutto quello che occorre, e si occupa della situazione logistica e anche dell'amministrativa tutta l'azienda. Per cui tu devi semplicemente raccontare la tua esperienza, condividere i tuoi risultati e arriveranno chiaramente anche i risultati, insomma, anche degli altri. Perché dobbiamo scegliere o abbiamo scelto Partner Co? Abbiamo scelto questa azienda perché, tra tante, è l'azienda che proprio nel 2022 ha ottenuto, è la prima in assoluto a livello mondiale, è un'azienda, scusate, mi sono un po' emozionata. Tranquilla Dani, tranquilla, ti aiuto io. Scusami Claudia, scusami. Vai tranquilla. Tu Billa Scoronda è la prima classificata, tra più di 800 aziende di network in tutto il mondo. Esatto, e si trova a più di 70 mercati in tutto il mondo, appunto. È un'azienda che... Nel 2022 ha fatto più di 300 milioni di fatturato? Ha fatto più di 300 milioni di fatturato, questa è una cosa che ci tengo a dire, perché abbiamo avuto veramente l'opportunità, grazie all'azienda, e grazie a questi prodotti, che sono eccellenti, di fare davvero numeri pazzeschi. Esatto. Allora poi, dicevo appunto che opera nel mercato appunto della bellezza, del benessere, per cui chiaramente potrai trovare in questa azienda tutto quello che ti occorre per poter migliorare, perché davvero la tua vita migliorerà a 360 gradi. Cosa fa la differenza di questi, dei nostri prodotti con i prodotti delle altre aziende? Noi non è uno, se la canta, perché sono prodotti che intanto sono approvati dal Ministero della Salute, che è una cosa essenziale e fondamentale per poter essere appunto venduti nel mercato italiano, ma poi hanno più di 18 certificazioni che attestano la loro qualità e sono chiaramente, per poterli avere, hanno dovuto superare tantissimi test molto rigidi, esatto. Chiaramente potrai trovare tutto quello che ti occorre, vedendo appunto quello che c'è, perché l'azienda fornisce, è un multibrand, quindi per il benessere, per la perdita di peso, per mantenere il peso, per gli sportivi, facendo anche attenzione un attimo all'ambiente, perché tutto quello che produce è proprio nel rispetto dell'ambiente. Credo di aver detto tutto senza anche aver pralasciato qualcosa, però vi ringrazio e passo la parola alla nostra Margaret. Margaret, ci sei? Ci sono, eccomi qua. Aspetta, eccoti. Allora, andiamo a spiegare come si guadagna in questa attività. Andiamo un po' al sodo. Allora, buonasera a tutti. Allora, io vi parlo, vi voglio parlare di come e quanto si può guadagnare grazie a questa attività. Allora, si inizia scegliendo un kit in base alle proprie esigenze. E qui ci tengo a sottolineare che noi abbiamo tantissimi prodotti e vari brand. Allora, prendiamo come esempio, supponiamo che tu debba perdere peso, quindi prendiamo come esempio il kit Gocce e Purnurish, che è uno dei kit più richiesti per quanto riguarda la perdita di peso. Fin da subito avrai uno sconto del 30%, quindi un kit dal costo di 294 euro tu lo pagheresti 209 euro. Quindi inizia la tua trasformazione, inizia il tuo percorso e inizia a condividere la tua trasformazione appunto attraverso i social. Da lì avrai le prime richieste di info, ti chiederanno che cosa stai facendo, che prodotti stai usando, che programma stai seguendo. Ed ecco che arriva la prima cliente. Allora, mettiamo caso che la prima cliente tu decidi di consigliare il kit che hai scelto tu. Ma comunque, come dicevo prima, ci sono tantissimi altri prodotti e tanti altri brand. Ma prendiamo sempre, come esempio, Gocce e Purnurish. Quindi tu decidi di consigliare alla cliente Gocce e Purnurish. Fin da subito avrai il primo guadagno che è all'incirca di 100 euro. E facendo questo con circa 5 persone al mese, insomma, abbiamo più o meno un guadagno di 500 euro al mese, quindi un extra di 500 euro al mese. e penso che comunque sia già un bel guadagno. Da qui possiamo decidere di avere un, diciamo, un obiettivo a breve termine e quindi creare il primo bacino di clienti e avere un obiettivo a breve termine. Quindi avere un guadagno immediato. Dani, chiudi il microfono, scusami. Chiudi il microfono, Daniela. Vai, Margaret. Ok. Oppure decidere di avere un obiettivo a lungo termine. Che cosa vuol dire? A questi clienti agli quali tu hai consigliato un prodotto, potresti consigliare, potresti offrire l'opportunità di lavoro e quindi di entrare a far parte del tuo team. Quindi creare un team e considera che creare un team che lavora e guadagna automaticamente ti permetterà di guadagnare di più. E quindi così via. Insegnare alle clienti a fare la stessa identica cosa che hai fatto tu. Allora, adesso mi presento. Io sono Margaret, ho 39 anni e sono mamma di due bambine. Io, a differenza delle mie colleghe, non entro in attività per perdere peso, ma durante il periodo della pandemia chiudo definitivamente la mia scuola di danza. Io sono un ex insegnante di danza. È un particolare. Sono mamma di due bambine e di un pelosetto a quattro zampe. Non ce lo dimentichiamo. Se no si offende. Allora, io, come dicevo, non entro da cliente, ma direttamente da incaricata. Durante il percorso, ovviamente, mi rendo conto che il prodotto, l'integrazione, insomma, è adatta a tutti. E quindi anche io, ovviamente, con il prodotto, ho avuto i miei risultati. Ho avuto comunque il mio cambiamento, il mio benessere. Allora, dopo questo, che dirvi? Un attimo che mi sono emozionata, perché come al solito, quando parlo di me, blocco sempre. Hai iniziato da cliente. Hai chiuso la tua scuola di danza in pandemia. E poi cosa è successo? Allora, da lì, poi, ecco, sono entrata in attività, mi sono follemente innamorata di questa attività, e qui sono rimasta, non è che sono tornata indietro, ho riaperto la scuola. Qui sono rimasta. Sono innamoratissima di questa attività, lo faccio con amore, da due anni, e è un'attività che ti dà veramente tanto, 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 e non parlo soltanto a livello economico, ma soprattutto a livello personale, perché io ti dico sempre, questo è un business che ti migliora. Che cosa fare per iniziare? Semplicemente, con un'iscrizione di 29,95 euro, avrai accesso al tuo back office personale, shop online personale, formazione aziendale gratuita, che è fondamentale, e gli strumenti aziendali. Questo tutto in maniera gratuita. Quindi, non ti resta che contattare la persona che ti ha invitato all'evento, e aprire il codice e iniziare subito il tuo business online. Ragazzi, grazie! Se siete velocissime, se siete bravissime, questo è il bello della diretta, quindi complimenti a tutte davvero, e grazie per aver partecipato. Grazie a tutti, buona serata! Ciao! Grazie, ciao!